è buono è buono? si è lucido? no il naga Moritz come mangiare con la sinistra aspetta non ci riesco è buon tanto poco ti vado a prendere il ghiaccio che fa come quella te lo metti in bocca prendiamo il pezzone prendiamo il pezzone brucia ho buttato poco butticelo un altro bubo hai capito butticelo un altro bubo ho preso proprio quello che c'era in cima mi riderò a caricarlo su facebook e non mi riesce manco mangiare con la sinistra diciamo che c'era in cima buono 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 il latte in frigo questo video non si porta un italiano impegnato nel base jumping sport estremo dietro in molti paesi in montagna è stata un'estate nera anche per alquilie ed escursionisti il 24 agosto per la prima volta un miliardo di persone ha utilizzato Facebook nello stesso giorno un social network di Mark Zuckerberg circa un miliardo e mezzo di utenti attivi al mese Champions League, la Juve tocca un girone di ferro con Manchester City e Sevilla La Roma, Fesca, Barcellona e Bayern Eberkut Nelle grandi sfide degli italiani, tutte in esclusivo Su media siete a premio, ma domani due anticipi di campionato Buongiorno, benvenuti alla FG5 Il primo piano, l'ennio, a questa volta dai numeri davvero imponenti Strage di indirizzo 200 i cadaveri avvistati a largo delle coste limiche Le operazioni di recupero sono in corso da Ieri sera sono rinunciate questa mattina Mentre le 52 salve degli ultimi migranti Soffocate nella seva di un balcone sono arrivate a Panetta Mentre continua l'arrivo Arrivano, trasbordano a terra il carico di dolore Il pescatore di interradio e ripartono Senza apparente soluzione di continuità Le giocrazioni di palestra La scataglia Allocazione La valoria Si può fare Ridi che ti passa Che posee In palestra 571 persone Rinchiusa nella stiva Le altre 52 coppie La motonave Fiorillo della Guardia Costiera Italiana Reggio Calabria Con 250 migranti e 4 vittime 3 donne e un uomo Ristrutto e non morto per un negamento Le donne Tiene di ustioni Intossicate da l'eserazione di carburante Lampedusa Dove sempre la Guardia Costiera Basta Salvo quasi 300 migranti salvati da due comuni indisticosi Grazie a tutti Grazie a tutti